Allora, siamo a Bruxelles, ci siamo appartati per parlare con voi cari amici, noi più terroni, noi quelli che ci vediamo. Cari amici dalla Sicilia, che poi verrete da tutta la Sicilia per vederci, spero tanto. Oh, non interrompo quando parliamo. Comunque, volevamo dire che noi due terroni, gli altri li ho lasciati lì al tavolo, aspettiamo l'aereo, siamo a Bruxelles e non vediamo l'ora naturalmente di trovarci con voi. A casa, a Daci Reale, il 17 di maggio, al Palasport, alle 21.30, per venire a festeggiare i nostri 25 anni e i nostri 20. I lori, vabbè io voglio dormire. Comunque, mi raccomando, non ci fate fare un video, soprattutto con quelli, fate, riempite il palazzetto perché quelli lì, sennò poi si vantano del Palasport di Milano. Invece noi vogliamo riempire l'ospedale, ora vi dobbiamo lasciare perché ci guardano male, perché siamo a Bruxelles e qua è così, vabbè? Ci vediamo.